Tante volte noi tutti ci troviamo in posizioni dove dobbiamo fare delle scelte, che siano positive o negative. Molte persone oggi, come un tempo, vengono bullizzate, influenzate e massacrate di minacce, facendo confondere e influenzare la persona che ne è vittima. Ecco, oggi con questo ballo abbiamo voluto introdurre in breve delle emozioni, in specie la tristezza e la rabbia. La storia, in breve, che abbiamo voluto raccontare con questa canzone molto emotiva è la seguente. Tutto inizia con un adolescente, che inizia a leggere un libro intitolato Nessuno è perfetto. E proprio in quel momento lui cade nei suoi ricordi. Questo ragazzo è stato bullizzato e infatti viene perseguitato nei suoi incubi da un'ombra. Quest'ombra rappresenta le critiche e gli invidia, molto frequenti, da parte di qualsiasi persona. Quest'ombra continua a perseguitare l'adolescente fino a farlo uscire fuori di testa, fino a che il ragazzo non ragioni più con la propria mentalità, ma con la mentalità di altri, in base a quello che può piacere agli altri invece che a se stesso. Nel pezzo si può vedere con quanta cattivella l'ombra riesce ad avere il comando e come chi ne subisce possa ritrovarsi da un momento all'altro hanno ragione più come la propria testa. Come nel volersi suicidare per sparire dalla faccia della terra, come vomitare per la troppa disperazione o anche perché essendo stati vittimi di bullismo e cyberbullismo. Infine si può notare che la persona si scopre la faccia con le mani e che tutto era nella sua immaginazione. Nella vita tutto è possibile, purtroppo anche questo. Proviamo a migliorare e a ragionare prima di fare certi addori e danneggiare la vita di fare certi modifici. Quattro. 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 Qu I can't believe you, can't believe you For a while, I'll be here From day to time, I'll love you I can't believe you, can't believe you I can't believe you, can't believe you For it, I close Our lawn Our lawn Our lawn Our lawn Our lawn Our lawn Grazie a tutti.